Da studente con poca esperienza come posso valutare economicamente le mie opere? La valutazione delle opere soprattutto in una fase emergente della propria carriera è comunque un qualcosa di delicato. Inizialmente dovresti avere un coefficiente ma il coefficiente viene attribuito da un gallerista o dai professionisti del settore. Di conseguenza quello che puoi fare è capire come si muovono artisti al tuo stesso livello e con una tecnica similare all'interno del panorama artistico locale, regionale o nazionale, almeno per avere una prima quantificazione di base che varia in base alla tipologia della tua arte.